Avete visto se lui vi afferra, no? Mi viene e va a ferra. Ma chi è che vi afferra così? Cioè c'è qualcuno che fa bello di caldo e viene a ferra così? Cioè mi vengono mai a ferra così? Cioè ci sono persone che vogliono minacciare. Mi vogliono minacciare la reazione di questo. Io non ho più lo compito, ma non ho più. Allora... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti